Ieri, oggi e domani Ieri Ieri, oggi e domani La torta è per domenica Lavoro di notte Quanti anni hai? Quanti anni hai? Hai anni? Vanno allo zoo dopo pranzo Bevo Caffè Dopo Cena Chi arriva a marzo? Marzo Manzo Chi arriva a marzo? Marzo Aspettiamo un momento Un bicchiere d'acqua per favore Un bicchiere d'acqua per favore Lavoro di non c'è Mangio. Cioccolato. Le. Le. Pomeriggio. Mangio. Cioccolato. Al. Pomeriggio. Grazie a tutti.